Nessun rallentamento per gli interventi sulle stazioni Termini e San Pietro, sostanzialmente già terminati quelli all'aeroporto di Fiumicino, mentre per le stazioni non indifferibili di Torricola, Tuscolana e Trastevere i cantieri sono in avvio già nei prossimi giorni. Un paio di mesi di slittamento sui programmi invece per la stazione Aurelia. È il punto sugli interventi giubilari che hanno nelle ferrovie dello Stato il soggetto attuatore emerso ieri nella commissione Capitolina Giubileo presieduta da Dario Nanni. A fornire il quadro è stata Maria San Giovanni, responsabile Area Roma Investimenti Stazioni, partendo dagli interventi essenziali e indifferibili, cioè San Pietro Termini e i percorsi della stazione di Fiumicino aeroporto. Allo scalo ha spiegato, i lavori sono completati, a parte qualche ottimizzazione che stiamo facendo, siamo in anticipo, nonostante un leggero decremento della spesa, la tipologia e la qualità degli interventi sono rimasti i medesimi. I lavori a Termini e San Pietro invece sono in corso, non ci sono rallentamenti rispetto al crono programma, ha affermato la dirigente che è molto sfidante perché dobbiamo effettuare gli interventi entro l'apertura della Porta Santa. A San Pietro i lavori riguardano sia il fabbricato viaggiatori, che viene definito in stato avanzato, sia le banchine, le pensiline e il piazzale esterno. Sono in corso, ha detto, i lavori sugli ambiti di accessibilità e sulle aree esterne per le quali ci sono interlocuzioni quotidiane col Comune per concordare elementi di dettaglio sul piazzale. Poi c'è Termini dove i lavori riguardano tra l'altro due sottopassi, il longitudinale e il trasversale. Riguardo al primo è terminata la riqualificazione, mentre il centrale in fase di conclusione sul lato di via Marsala è stato ripavimentato in marciapiede.